Ma infatti è assurdo, vede, io da generale le dico una cosa, io sono un uomo delle istituzioni, ma lo dico da politico più che da generale, l'essere razzista in Italia è un reato. Quindi se la nostra polizia fosse razzista dovrebbe essere arrestata, perché starebbe commettendo un reato. Ora, questi signori sono effettivamente ignoranti riguardo le normative che ci sono in Italia e quindi probabilmente valutano queste azioni con una modalità strumentale e pretestuosa. Ed è questo, è chiaro. La polizia difende i cittadini, non è certo un qualche cosa che si comporta in maniera razzista, nella maniera più assoluta. Sarebbe come dire, io penso che la motivazione era giustificata dicendo che la polizia arresta più immigrati rispetto ai cittadini italiani. Ecco, sarebbe come giustificare una sorta di discriminazione dai parti dei medici che si rivolgono più ai malati rispetto alle persone sane. Il parallelismo è lo stesso.